Dopo una liti è avvenuta in casa, ferito con un coltello l'amico marocchino l'ha inseguito per strada, tentando anche di aggredire a quell'arma gli agenti intervenuti sul posto. E' stato così disarmato e arrestato gli uomini alla sezione volante di Ragusa, una giovane donna rumena per i reati di lesioni personale aggravata, resistenza pubblico ufficiale e porta abusivo di oggetti ad offendere. La scorsa notte, dopo una segnalazione di persone sospette pervenute alla sala operativa, gli agenti sono portati infatti nella zona alta del centro storico Ragusa. In pochi istanti hanno individuato una donna che, brandendo un coltello, inseguiva un giovane che tentava di scappare. Alla vista della volante, la donna, in evidente stato di agitazione, si è scagliata contro l'auto di servizio, minacciando di uccidere gli agenti se avessero tentato di fermarla. I poliziotti, con prudenza, hanno quindi cercato di tranquillizzarla, ma nonostante fossero scesi dal mezzo, la donna ha continuato a brandire il coltello, non ottemperando all'ordine di lasciarla a terra. Gli agenti allora, con grande sanquefreddo e applicando una tecnica operativa, sono riusciti a disarmare la donna e assicurarla al mezzo di servizio, e ciò ha permesso di non fare uso dell'arma, al fine di non creare pericolo per l'incolumità pubblica, tenuto conto della presenza in zona di numerose abitazioni. Il giovane marocchino 22enne, con una ferita invece da taglia all'addome, è stato soccorso e trasportato in ambulanza al vicino ospedale civile, dove è stato medicato e giudicato guaribile con dieci giorni di prognosi. Grazie.